www.acnews.com www.acnews.com Ma voi siete sicuri che questa è l'isola adatta a noi, eh? Te dico solo due parole. Attento. Ora se ci va. Detto giù, ma sentite. Eh beh, beh, beh. Siete usciti ieri sera? Sì, sì. Ma solo un giretto, eh? No, no, no. Oh, questa è giù, ma non leccano. Io non guarderei un'altra donna neanche con la coda dell'occhio. Ma se non fossi stata con Giorgio, me l'avresti dato quel bacio? No. Io ti ho tradito. Madre. Sono a Paros. A me serve un bambino triste, incazzato. Incazzato? No, mi serve così. E lui è Angelo. Mi ricordavo Simone, no? Simone, Simone, è il mio Angelo. Cosa non fareste voi per una scopata, eh? Chi è questo bel bambino? E come chi è? È mio figlio. E poi è nata a Tosanotte. Qui ognuno è venuto in vacanza per stare per i cazzi suoi, vero? Sì. C'è una mogliette a ballare. Ti faccio fare l'alba, chicca! Ci voleva lei, ci voleva lei, ci voleva lei. Che ti portasse fino a qui. Perché fossi come sei, perché fossi così. E ci voleva sano come spesso. E se non passi a volare. 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 World Disney Pictures ha produtted the new adventure movie John Carter, which will be out in theaters the 9th of May 2012. The movie has been adapted by director Andrew Stanton from the novel by Edgar Rice Burroughs. Taylor Keach is in for the lead role. The movie looks really epic, because there are outstanding visuals that you can see have been worked on in detail. But maybe the plot has no substance. Although Stanton worked at first with Pixar, where the plot always counts more than anything else. So we'll have to wait for the release date to judge. The Nutcracker will be adapted by Adam Shankman, the director of Bedtime Stories. It seems like this story-like Christmas Carol by Dickens needs to be revised forever. We saw movies, cartoons, plays. The script will be Darren Lembke, Shrek Forever, to write it. And they say it will go back to its original roots of the plot, to 1816 version The Nutcracker and the Mouse of the King by Hoffman. It will be a more like version of Alice's Wonderland, which concentrates on adventure and romanticism. That's all for today, see you soon from AC News! for being here. And now, we're going to take a look at the items. This is a pretty good idea. You are starting to go back to all the scenes.